Salve, qui il vostro Sant'Enchan. Niente, che incredibile questo super papa, questo papa Francesco. C'era una tregua molto conflituata e due mesi fa papa Bergoglio interviene come mediatore della pace. Ecco, due mesi fa. In appena due mesi si stanno scannando a morte. Meno male che ha intermediato la pace, se no chissà che cosa sarebbe successo. Saluti e a presto. Ciao.